Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete ho indosso l'Apple Vision Pro perché oggi lo proviamo in cucina. Ci troviamo nel mio studio, qui nella postazione da gaming, qui abbiamo invece la cucina dove ci concentreremo oggi. Voglio vedere com'è utilizzare l'Apple Vision Pro, che in questo momento sto indossando ed è sempre un po' particolare. Vediamo qual è il suo utilizzo in cucina. Ora per utilizzarlo io ho dovuto fare una cosa, ho dovuto installare un Apple ID americano, purtroppo non ho una carta di credito americana e quindi non posso fare acquisti e mi devo basare solamente sulle esperienze che sono gratuite, quindi free trial e così via. Allora, se apro qui l'App Store, possiamo vedere alcune cose che ho scaricato legate al mondo della cucina. Poi faremo anche un video in cui vi mostro alcune delle applicazioni più interessanti che ho trovato fino ad ora e poi proverò in tutti i modi a trovare un modo per collegare una carta di credito. Perché senza una carta di credito americana non posso comprare le app che secondo me potrebbero essere più interessanti da portare qui sul canale. Quindi facciamo così, andiamo a vedere se io cerco, no non M, se io cerco Kitchen, vediamo cosa troviamo di bello. Allora, io ho scaricato un paio di cose, c'è come vedete qui, questo è un timer, però voglio dire 2 dollari per un timer mi sembra esagerato. E infatti poi cercandone diversi ho trovato qualcosa che faceva il caso nostro. Allora, intanto ho trovato questo qui che sembra molto interessante, guarda, alza un po', lo avviciniamo. Allora, Crouton Recipe Manager, praticamente è un'applicazione che ti fa vedere le ricette, ti fa partire il timer da solo, poi la guardiamo meglio. Che cacchio l'ho messo, eccolo qua, su Kitchen Timer, questo qui sembra figo perché ti permette di mettere un timerino, oh ma c'è anche il cursore, no vabbè che figata. Ah perché posso toccare giustamente, no vabbè, ma che l'aveva capita sta roba, bellissimo. Posso aprire, open, l'aperto, oh eccolo. E qui abbiamo anche i timer, no, fantastico. Allora, chiudi qua, portiamo con noi il timer e lo portiamo in cucina. Il timer, come funziona? Fai partire, spegni, tutto, fantastico. Allora, lo proviamo oggi e lo proviamo con HelloFresh che è lo sponsor di oggi. Mi è appena arrivata la consegna, ora vi racconto un po' meglio di che cosa si tratta, probabilmente alcuni di voi se lo ricordano già, ma per farlo forse è meglio levarsi un secondino il visore. Che dite? Io dico di sì. Signore e signori, HelloFresh è lo sponsor di oggi, non è la prima volta che ve ne parlo. Che cos'è? Per chi non lo sapesse si tratta di un servizio che offre un abbonamento settimanale per ricevere a casa delle box ricette. Box ricette che sono molto interessanti e soprattutto molto convenienti. Già in passato vi ho mostrato questo servizio e devo dire che sono molto fan. In primis l'abbonamento non è vincolante, si può sospendere in qualsiasi momento e la consegna è fatta in modo di essere congeniale per il cliente. Quindi decidi tu il giorno, l'orario e ogni settimana puoi scegliere ricette diverse. Io in questo box ho scelto tre ricette, ogni settimana ci sono ricette nuove dalle altre cose. E perché dico che è conveniente? Perché all'interno avrai tutti gli ingredienti che noi andiamo a vedere, mettiamo fuori tutte le confezioni, ma soprattutto hai le schede per preparare i tuoi piatti e sono a prova di imbranato in cucina come me. Ormai mi conoscete, non è che io sia un campione in cucina, ma con HelloFresh è tutto più semplice. Soprattutto è conveniente perché ti arrivano gli ingredienti precisi, quindi non ci sono sprechi, che è una cosa che cucinando magari una o due porzioni è facile avere, ma soprattutto è anche più facile cucinare perché tu c'hai già le porzioni precise da mettere dentro il piatto, voglio dire, cosa c'hai di più semplice. Et voilà. Qui dentro abbiamo carne, yogurt. Devo scegliere la ricetta da fare oggi, così. Uh bello, qua c'è una mela. Dov'è che serve la mela? Cotoletta di maiale e patate arrosto. Ah qua serve la mela, non chiedetemi perché. Cosa vogliamo fare oggi? Abbiamo tre opzioni, abbiamo un burger di pollo con le patate e salsa tzatziki allo yogurt, niente male, polpettone di carne alla salsa barbecue, incredibile, o la cotoletta fritta di maiale e patate arrosto. Allora signore io direi facciamo l'hamburgherozzo. Allora l'hamburgherozzo è la confezione numero tre, quindi prendiamo uno, due, mettiamo in frigo e poi chiaramente ora per il resto del video proveremo a fare questa ricetta, ma voglio fargli vedere intanto gli ingredienti che ci sono dentro. Qui abbiamo la carne, il pane e come vedete poi abbiamo gli ingredienti. Questo, questa è una zucchina, è un cetriolo. È un cetriolo, ok. Un pomodoro, una cipollina, guarda qua, bella, appena raccolta sembra. Tante belle patatine. La cosa bella è che sono già pronte, capito? Non devi misurare niente. Io nel mio abbonamento ho scelto tre ricette a settimana per due porzioni. Fantastico. Potete usare il mio codice sconto che vi metto qui in sovraimpressione per avere la consegna gratuita e il 50% di sconto sulla prima box e il 25% di sconto sulle successive tre. Quindi niente male, vi lascio comunque il link in descrizione per avere maggiori informazioni. Ora lo sponsor di oggi capita a pennello, quindi direi utilizziamo gli ingredienti che ci ha portato oggi HelloFresh per provare un po' la cucina ma soprattutto provare il visore. Siamo qui, siamo pronti a cucinare. Ho tutti i miei ingredienti. Io direi che il primo vero utilizzo che possiamo fare è quello di magari fare una foto. Ok, ora ho la mia bellissima ricetta. Guarda come si vede bene. Perfetto. Per questioni di comodità leverò il dimming automatico. Posso? Ecco, leviamo l'autodimming. Così possiamo concentrarci. Allora, prima di cominciare, preriscaldiamo il forno a 220 gradi. Il bro è simpaticissimo perché io quando premo ok, start, mi viene qui il termometro, quindi c'è la temperatura, ma a volte la temperatura, insomma, fa bip quando è preriscaldato. Sbucciate e affettate la cipolla ad anelli sottili. Prendiamo la cipolla e iniziamo a tagliarla. Perfetto. Allora, c'abbiamo la nostra cipollina. Poi, cosa dobbiamo fare? La cosa bellissima è che essendo un monitor, ma non sto dovendo toccare, non sporco niente. Che ficata. Ora, lo mettiamo in una ciotolina, se è detto. Non ho ben capito con cosa. Tra l'altro, tagliare la cipolla con il visore mi protegge gli occhi. La vera domanda è, io ce l'ho dell'aceto o dell'olio, ma non dell'aceto. Vediamo se nelle supply di clochet abbiamo dell'aceto. Top. Non so se l'aceto di mele va bene o se ho bisogno dell'aceto di vino, però. L'aceto di vino. Vedi? Un'azienda che lavora con gli chef a domicilio aiuta. Abbiamo detto due cucchiai di aceto. Oh, ma che ficata è registrare in pop così poi. Cioè, con la ricetta. Aspetta che un cucchiaio non capisce cosa sto facendo. Questo è uno. Queste due. Mezzo cucchiaino, un pizzico di sale. Ah, minchia, un pizzico di sale. Beh, facciamo così. Mezzo cucchiaino di zucchero. Per fortuna ce l'abbiamo qui vicino al caffè. Allora, mezzo cucchiaino. E poi dobbiamo metterci quattro cucchiai d'acqua. Uno. Due. E quattro. Dai, mettiamocene un po' di più. Meschiamo un po' sta roba perché c'è il sale in cima, c'è lo zucchero. Effettivamente. Vabbè, lasciamolo comunque così. 15 minuti va lasciato. Guarda, lo mettiamo qui sotto la ricetta. Fantastico. Cos'altro? Tagliate le patate a spicchi di circa un centimetro. Potete tenere la buccia. Raccoglietela in una ciotola con un cucchiaio d'olio e conditele in modo uniforme. Facciamo così. Facciamo così. Tra l'altro questi mettiamo nella ciotolona con poi un cucchiaio d'olio che andremo a condire. Anche un po' di... Aia! Sale e pepe. Ovviamente tutto sciacquato prima, eh. Non vorremmo mai mangiarci della terra. Oh, buona. Si è detto, un goccino d'olio. Qui come la temperatura ha? Ah, siamo quasi pronti. Allora. Si butta un goccino d'olio. Un po' di sale. Giusto? Conditele in modo uniforme. Ma io guarda, un po' di sale ce lo metto comunque. Ecco, conditele in modo uniforme. Allora si piglia il nostro cucchiaio e si fanno girare un po' queste patatone. Siamo contenti? Minchia se siamo contenti. Lo mettiamo su una teglia affoderata con carta da forno. Cerca di sovrapporle. Ok, il forno è pronto. Dobbiamo mettere il timer. Ma prima di mettere il timer ho bisogno di carta a forno. La nostra superteglia che appoggiamo qui sopra. Ah, abbiamo già un foglio pronto. Fantastico. Ce lo mettiamo sopra al contrario. Andiamo a distribuire le nostre patatonze. Giusto? Ah, viene qua. Gli diciamo quanti minuti? Eh, no, no. I gradi sono quelli. Devo cambiare il timer. 30 minuti. Ok. Per comodità facciamo partire anche il nostro timer che abbiamo scaricato. Che ne aggiungiamo uno. Custom. Gli diciamo 30 minuti. Giusto? 30 minuti. Start. E lo mettiamo qua sul forno. Così io girandomi posso già vedere... Chiudi qua. Così io girandomi posso vedere a che punto è il mio forno. E non devo avvicinarmi perché ce l'ho bello gigante. Perfetto. Allora. Tagliate a metà il cetriolo a rondelle e grattugiate l'altra metà? Eh, io non ce l'ho però. Ma cosa mi sa? Ah, per fare la salsa al tazzichi. Eh, possiamo provare a tritarlo. Allora, metà a rondelle e lo faremo a rondelle. Com'è il suo cetriolo? Assaggiamo? Fresco. Ora, questo si è detto, possiamo provare a tritarlo. Allora, tritchiamo anche questo. Attenti, ha le dita quando fate queste cose. Qua come procede? 28 minuti. Minchia, ne manca di tempo, eh? Vabbè. Tagliate il pomodoro a fette anche. Ma il pomodoro dove va? Tagliamo il pomodoro a fette. Abbiamo delle fette comunque generose. Dobbiamo fare due hamburger. Quindi, uno. Allora, la salsa al tazzichi. Apriamo lo yogurt. Ce lo versiamo tutto dentro. Voilà. Un bello yogurt intero. Un cucchiaio di olio. Sale e pepe. Calma, dove vai? Ce la facciamo andare bene, signori. Minchia, se ce la facciamo andare bene. Ora, un cucchiaio d'olio. Che vuol dire più o meno così. Manca ancora... No, ma si è stoppato il timer. Cazzo, per fortuna che ho messo anche quello. Eh no. Eh no, vè. Cazzo. Sembrava strano, forse ancora 28 minuti. Pizzico di sale e un po' di pepe. Facciamo così. E facciamo così. Mescoliamo bene. E la nostra salsa al tazzichi sarà terminata. Ho bisogno di mescolare, cioè di creare gli hamburger di pollo. Per creare gli hamburger di pollo bisogna sporcarsi le mani. Fortunatamente qui nello studio di Surry, oltre alla fettatrice, abbiamo anche i guanti per il contatto alimentare. Ora, possiamo usare questo residuo di olio che abbiamo dalle patate, insieme a un generoso pizzico di sale. Ora, insaporiamo bene con l'olio che avanza lì. Chiaramente poi questa ciotola non lo possiamo più usare senza lavarla, perché il contatto con la carne cruda va così. Allora, amalgamiamo bene. Ok. Ora, dividiamo in due. Due palline, due. Verranno degli hamburger belli grossi comunque, eh. Ora possiamo procedere alla cottura, giusto, degli hamburger. Padellona. Usiamo questa qua grande. Potremmo usare anche la griglia, ma per comodità usiamo questa invece. Riscaldiamo prima la padella. Mettiamo su un 7. Fuoco medio. Facciamo un 7,5. Prima di fare qualsiasi cosa, però, prendo un altro pezzettino di carta forno. Piccolino, eh. Però, lo voglio. Un goccino. Non siate timidi con i grassi, ragazzi, eh. Una cosa che ho imparato, lavorando con gli chef, cioè lavorando, guardandoli, è che non bisogna essere timidi con i lipidi, con i grassi. Non siate timidi. Vediamo il secondo hamburger ozzo. Ecco qua. Questo è il rumore che volevo sentire. Prendiamo una di queste ciotoline dell'Ikea. Ci spalmiamo. Andiamo un po' in giro con l'olio. Che penso che sia necessario. Queste polpettone devono diventare degli hamburger. Quindi stiamo facendo uno smash burger di pollo? Non so se chiamarlo così, onestamente. Ok. Sono enormi? Sono enormi, ma è esattamente ciò che volevamo. Ora qui il timer, cioè la ricetta, anche se quell'hamburger lo vedo che è un po' sproporzionato, dice 3-4 minuti per lato. Va bene. Vogliamo provare ad aggiungere un timer? Aggiungiamolo. Ce l'abbiamo. Allora, mettiamo uno nuovo. Questo lo chiudiamo. Facciamo 3 minuti a partire da ora. Vieni qui. Ti metto proprio sopra la padella. Facciamo girare. Allora, il profumo è molto buono comunque, eh. Incredibile come sale e pepe. Se è una cosa così semplice, ma così d'effetto. Salsa stazze che ce l'abbiamo? Cettolino ce l'abbiamo? Pomodoro ce l'abbiamo? Tagliamo il pane. Ora, io qui purtroppo non ho accoltato da pane, ma ce ne faremo una ragione. E facciamo così. Ora, come avete visto non abbiamo messo la carne cruda sul tagliere. Importantissimo, eh. Non fate questi erroracci che poi state male. Abbiamo i nostri due panini, che a questo punto io proverei a mettere in forno. Possiamo provare a metterli, sai dove? Nella parte bassa. Tanto qua mancano 9 minuti. I panini. Uno, due. Allora, vediamo che succede. Secondo me qui possiamo tenere un timer tipo che appena finisce questo qui. Diamo un'occhiata comunque al pane. Bella e strong. Ok, il timer è partito. Piano, 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 piano. Resetta. Eh, ho capito. È suonato? Basta. Minchia. Che fastidio. Andiamo a girare. Uno. E due. Vabbè, questo c'è proprio un bel colore, eh. Allora, mettiamo anche qui un timer di, diciamo, 3-4 minuti. Diciamo altri 3 minuti. Vai, parti. E ti metto qui. Diamo una sbischerata di sale. E una sbischerata di pepe. Questo lo spostiamo un pochino che se no mi dà fastidio. Ok. Diamo un occhio al pane. Con molta calma. Si sta già un po' irrigidendo. Che va bene. Io volevo proprio averlo tostato. Quelle patate non mi ispirano un granché. Devo essere onesto. Ah, guarda qui. Guarda qui questi bel hamburgerozi. Belli, belli. Mi piacciono. Ora, spostiamo un attimo questo così possiamo pulire qui. Che si è creato un disastro. Cosa bellissima di questo piano cottura è che ovunque tu sposti la pentola, lui ti segue. Quindi, davvero figo. Siamo pronti ad impiattare, eh. Guarda, secondo me siamo pronti ad impiattare. Qui qua è un po' più smorto. Proviamo ad aprirne uno per vedere se è cotto. Comunque stiamo parlando di pollo, quindi non bisogna scherzare. Bello biancastro. Perfetto. Ora, questi li lasciamo riposare un attimino in padella. Anche perché non c'è tantissimo olio o perlomeno è periferico, quindi non ci dà problemi. Diamo un'occhiata di qua come procede il pane. Oh, sì. Il nostro pane è bello tostato. Andiamo a impiattare gli hamburger. Come si fa? Si prende la nostra salsa tzatziki senza aglio, quindi solo yogurt, cetriolo, sale, pepe e limone. Si prende un bel cucchiaino e si mette qui nel mezzo. Comunque yogurt, quindi dà un botto di cremosità, eh. Ora, momento del hamburger. Andiamo a prendere il nostro hamburger di pollo, che piazziamo sopra. Andiamo a guarnire. Come ci dice di guarnire? Allora, fette di pomodoro. Quindi, diciamo, due fettini di pomodoro per lato. In questo modo. Sopra il pomodoro le rondelle di cetriolo. Qui non esagereremo, perché comunque non è piccolo, ci dà un po' di freschezza, ma non vogliamo metterne troppo. Un altro qua, un altro qua. E poi, la cipolla marinata, dipende sempre dal vostro gusto. Io ne metterei giusto qualcuna. State attenti a non mettere troppo succo, perché comunque c'è l'aceto dentro, quindi un conto è mettere la cipolla, un conto è mettere il resto. E questo è quanto. Le parate al forno. Manca, guarda, un secondo, ci siamo girati precisamente. E, guarda, ti ringrazio, ma secondo me ancora un po' ci vuole. Chiudiamo un hamburger e vediamo l'esultato, che devo dire, artigianale, chiaramente, ma sembra non male. E lo appoggiamo qui. Stessa cosa di qua, con il nostro bel pane tostato e ci troviamo con un bel panino al pollo. Prendiamo uno di questi hamburger e ci mettiamo dentro le nostre patatine. Prendiamo un po' di queste patate qua, che comunque sembrano molto invitanti. Perfetto. Allora, la porzione di visore di questo video direi che è completata. Ho cucinato avendo sempre in testa il visore, con la ricetta comoda. Questo è il risultato, che direi che non è per niente male. Sono molto curioso di assaggiarlo, ma per assaggiarlo mi devo levare il visore, perché è praticamente scarico. Questo è il piatto. Un bellissimo hamburger che ho cucinato con il visore. Anzi, guarda, ora me lo metto per... Andiamo all'assaggio. Allora, hamburger di pollo, salsa tzatziki, pomodoro cetriolo, cipolla marinata. Assaggiamo le patatine. Allora, quelle più piccole sono venute bene, eh. Però, buone. Buone. Quelle che ho lasciato in forno verranno perfette. Allora, andiamo all'assaggio. Abbiamo una bella fetta di pomodoro, un bel pezzo di pollo. Andiamo, guarda, andiamo da questo lato. Buono. Oltre le aspettative, mi spiace solo di aver preso un pezzo di pomodoro nel morso. Se poi penso che l'ho cucinato io, guarda, lasciamo stare. Ora, io c'ho anche fame, quindi lo finirei anche sto panino. Conclusioni. È stato utile l'Apple Vision Pro? Possiamo dire che il timer è una cosa carina. Il fatto di girarti, vedere uno bello grande, di avere la ricetta sempre bene a disposizione davanti a te, di poter toccare, cioè, di poter zoomare, guardare meglio la ricetta senza dover sporcare niente. Quindi con le mani sporche io posso comunque interagire con il mondo virtuale in realtà aumentata. Compressivamente è un bel giucattolino. Stessa cosa ci siamo detti nell'ultimo video. Stessa cosa ci diremo nei prossimi video con l'Apple Vision Pro. Però il risultato, un po' brutto, ma è venuto molto buono. E quindi noi siamo contenti. Per questo video, signori, è tutto. Vi ricordo il link in descrizione per HelloFresh con il mio codice per avere 50% di sconto e spedizione gratuita sulla prima box. e 25% di sconto sulle successive 3 box. Per questo video è tutto. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti.